Peter Pan and Wendy è il cellulare del romanzo dello scrittore e comediografo scozzese James Matthew Barry, nato nel 1860. Wendy, John e Michael sono i figli di a genere della signora Darling. Ma di notte i tre bambini non sono soli. Qualcuno rispia. Sono Peter Pan e la piccola fata Trilly e volano tutti insieme sull'isola che non c'è, dove incontrano le sirene, capitano uncino, spugna, gentiluomo. Buona lettura a tutti voi con Peter Pan e Wendy.